Ci stiamo compattando ancora come squadra, quindi ci sta dicendo male che andiamo subito in svantaggio, ma secondo me è solo questione di tempo, perché noi ogni settimana lavoriamo per migliorarci e penso che pian piano verremo fuori anche da questa situazione. Diciamo che io sono nato come terzino, quindi l'ha sempre fatto tutta la fascia, non tutta la fascia, però mi sono sempre trovato bene sulla fascia. Naturalmente questo è il ruolo nuovo per me, perché come hai detto tu mi trovo a fare tutta la fascia, però pian piano mi sto tattando bene e non mi dispiace come ruolo. Quest'anno probabilmente con il fatto che ho più spinta, arrivo più sul fondo e più in avanti, potrei avere qualche possibilità in più. L'anno scorso c'è avuto quattro occasioni, non ho mai tirato più di quattro volte in porta, quattro gol l'ho fatto, quindi sono stato anche fortunato. Però il importante è trovarci di là. L'Arezzo è sicuramente una buona squadra e, sapendo che ha avuto un percorso non facile, diciamo che non sta facendo benissimo. Poteva fare di meglio e, naturalmente, noi sappiamo che non sarà una partita facile domenica. Che voto dai al Teramo, che ha giocato nove dai in un po' più di un mese? Voto? Un sei e mezzo, perché venendo, ti ripeto, è una situazione come perché è rimasto da quest'estate. Psicologicamente non è stata facile. Poi il fatto che abbiamo dovuto giocare tutte queste partite in un mese, quindi, voglio dire, venirne fuori non è mai facile. Ma non è una scusante, però voglio dire che non è mai facile.